Euroregione News Sport E per tutti La provincia di Udine con l'assessore allo sport Beffino Govetto sta organizzando il progetto Sport E Movimento e Salute dedicato principalmente alle persone non più giovani nei comuni di Buia, Cividale del Friuli, Codroipo, Latisana, Palmanova e Tolmetto L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto con dei dati scientificamente provati che chi fa attività sportiva in maniera regolare, che significa 30 minuti almeno un giorno sì e un giorno no ecco, diminuisce in maniera molto sensibile l'eventualità di problemi cardiocircolatori e quindi noi siamo qui come provincia per dire che questo è importante, per dire che non è un optional ma è determinante per prevenire malattie, per restare bene, per sentirsi ancora attivi nella società per sentirsi ancora partecipi dei progetti della società fare movimento però dopo una certa età bisogna stare attenti, non si può fare attività motoria in maniera scriteriata ma bisogna rispettare delle piccole regole ecco i nostri convegni e la nostra attività pratica che seguirà poi nelle palestre serve proprio a dettare queste regole minime che si devono rispettare quando si fa attività motoria dopo una certa età dal Medio Friuli per Euroregione News Marco Mascioli i nostri servizi sono disponibili su internet all'indirizzo www.euroregionews.eu